Ora io vi chiedo, qual è il vostro peccato personale? Il peccato di un uomo del potere. Io credo che sia venuto il momento di riandare con il pensiero ai brentani che ci hanno visti alla vita del paese. Parla difficile solo se non hai niente da dire. Attenzione, io sono un supermarket. Ho tutte le prove. Le prove di che? Di tutto. Grazie a tutti.